Allora la prima differenza tra l'estero e l'Italia l'abbiamo detta prima, all'estero quando un politico è coinvolto in uno scandalo sparisce lui, in Italia sparisce il reato, sparisce il processo, una volta spariva anche il magistrato. La seconda è quello che dicono i politici coinvolti negli scandali, all'estero dicono ho sbagliato, mi scuso, mi dimetto, oppure dicono sono innocente ma mi dimetto lo stesso perché non voglio usare la mia carica per essere un imputato privilegiato. In Italia negli ultimi vent'anni dopo Tangentopoli la fabbrica degli alibi, cioè delle dichiarazioni dei personaggi coinvolti ha subito una notevole evoluzione. Si cominciò con l'arresto di Mario Chiesa vent'anni fa e Craxi disse subito è un mariuolo che scredita l'intero partito sano, una mela marcia in un cestino di mele sane, tant'è che Chiesa appena lo seppe chiamò i magistrati di Mani Pulite e disse adesso vi racconto il resto del cestino e fu un'ecatombe. Qualche settimana dopo con un'agile piruetta Craxi andò in Parlamento e disse il contrario della teoria del cestino, anzi disse proprio qui rubiamo tutti, quindi anche lui pareva intendere, invece no, lui diceva rubiamo tutti quindi io non centro e come se un rapinatore di banche beccato mentre scappa con la mascherina, il sacco e tutto quanto dicesse al giudice ma con tutti i rapinatori che ci sono in giro proprio me dovevate processare, il giudice giustamente gli dirà intanto prendiamo lei, processiamo lei, se poi ci dice chi sono gli altri prendiamo anche gli altri, tant'è che poi arrivò l'architetto Larini dall'estero e raccontò al pool di Mani Pulite che lui proprio portava le tangenti degli appalti della metropolitana milanese sul letto di Craxi e poi arrivò Maurizio Raggio e raccontò che Craxi l'aveva spedito in Svizzera a svuotare i suoi due conti dove c'erano 50 miliardi per portare via i soldi prima che li trovassero i magistrati. Allora Craxi cambiò ancora versione e disse di essere vittima di un teorema, il teorema del non poteva non sapere, a parte che i teoremi non sono delle affunisterie, i teoremi sono proprio delle formule esatte, il teorema del non poteva non sapere nelle sentenze di Craxi non c'è, c'è scritto nelle sentenze di Craxi che sapeva e incassava i soldi e infatti è scappato all'estero. Poi beccarono Bossi o meglio il suo tesoriere Patelli che aveva preso 200 milioni da Carlo Sama dalla Montedison e Bossi disse è un pirla, non perché avesse preso i soldi ma perché si era fatto beccare. Poi raccontò Bossi che i soldi li aveva lasciati in un cassetto, arrivarono i servizi segreti e li rubarono, infatti fece una colletta fra i leghisti e li riportò ai magistrati, ma lo processarono lo stesso e lo condannarono pure. Al processo Cusani Di Pietro gli chiese ma lei lo sapeva di quei 200 milioni? A Bossi lo chiese e Bossi rispose ma per l'amor di Dio e Di Pietro ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Ma per l'amor di Dio sì, disse Bossi, condannato infallibilmente. Cirino Pomicino, sempre al processo Cusani, era più spiritoso. Di Pietro gli contestò la sua fetta di torta della Massi Tangente Enimont, 3 miliardi e mezzo accertati e lui lo corresse subito, anche un po' piccato, disse no dottor Di Pietro prego i soldi erano 5 miliardi i tondi, come dire sono mica un pezzente che si vende per un pezzo di pane. Però poi aggiunse non era una tangente, era un innocente, semplice contributo elettorale per le elezioni anticipate del 92. E Di Pietro disse scusi ma la tangente è del giugno 91, cosa ne sapeva Samma delle elezioni anticipate del 92? Manco era caduto ancora il governo e già iniziavate a raccogliere soldi un anno prima? E Pomicino disse infatti glielo obiettai, la campagna elettorale è lontana, ma lui mi rispose che era meglio prepararsi per tempo. Risate in aula, poi Pomicino descrisse la visita che aveva fatto a casa sua Carlo Sama insieme a Ferruzzi e a Bisignani, che non è un omonimo, è lo stesso degli ultimi scandali. Arrivarono alle 8 meno 10, per me alzarmi a quell'ora fu una sofferenza terribile, comunque ho ricevuto in casa mia anche persone che poi non hanno pagato le mie campagne elettorali. Di Pietro rispose ci mancherebbe pure che tutti quelli che entrano in casa sua dovessero pagare. Pomicino fu condannato due volte e poi cominciò a sostenere di essere incensurato e quando uno gli diceva ma come fai a essere incensurato con due condanne rispondeva sì ma io ho più assoluzioni che condanne. Ecco per lui la incensuratezza e la somma algebrica fra le une e le altre. Poi beccarono Berlusconi, una delle prime accuse era quella dei fondi neri all'estero sui conti della società Oliveria e lui tirò fuori un alibi di tipo estetico. Oliveria non l'ho mai sentita nominare ma vi pare che col mio senso estetico avrei mai chiamato una mia società con quel nome? Ora a parte che lui ha chiamato suo figlio Pier Silvio quindi c'è da aspettarsi di tutto, diciamo è un alibi un po' così e infatti lui ha giurato continuamente sulla testa dei figli che i poveretti ne pagano ancora le conseguenze. Infatti si è poi scoperto naturalmente che Oliveria era tutta sua proprio al 100%. Quando hanno beccato i bonifici di Previti in Svizzera al giudice squillante Previti ha subito rassicurato la Boccasini con un altro alibi di ferro detto tranquilla dottoressa non è corruzione è solo evasione fiscale. Caso unico al mondo di un imputato che come alibi per un reato ne confessa un altro che il magistrato ancora non conosce come un rapinatore che è beccato con le mani nel sacco dicesse guardi ho un alibi di ferro perché all'ora della rapina stavo stuprando una bambina. Di solito poi ti processano per stupro. I giudici a un certo punto chiedono al Parlamento di autorizzare l'arresto di Previti perché scoprono che sta inquinando le prove. Alla Camera si può dire di no soltanto per il Fumus Persecuzionis però gli veniva da ridere perfino a quelli di Forza Italia a dire che Previti erano perseguitati e allora la Camera respinse l'autorizzazione all'arresto di Previti con questa motivazione. Le prove sono così tante che Previti non può inquinarle tutte neanche volendo cioè l'hanno salvato per sovrabbondanza di prove. Poi è arrivata l'epoca delle intercettazioni che sono un po' come la foto del delitto con l'autoscatto del colpevole. Lì è difficile negare i fatti perché di solito li hai ammessi tu con la tua voce al telefono e allora che cosa si fa? Ci sono varie opzioni. La prima opzione è quella dei coniugi Mastella che quando furono inquisiti per l'ottizzazione di cariche pubbliche in Campania dissero e i giornali il giorno dopo sostennero così fan tutti che probabilmente è vero ma i magistrati li hanno rinviati a giudizio ritenendo che l'ottizzare sia reato. Seconda opzione, opzione Moggi, beccato mentre disegnava al telefono gli arbitri per la Juventus alla carte. Moggi ha risposto sì ma telefonava anche l'Inter che non è un bel modo di difendersi perché il reato non è telefonare e scegliersi gli arbitri, è quello che dici nelle telefonate, infatti in primo grado l'hanno condannato. Opzione Bertolaso, sempre più difficile. Bertolaso nell'inchiesta sulla cricca era sospettato di tre cose, favori ricevuti da costruttori ai suoi familiari e per sé massaggi sexy al salario a Sport Village di Diego Anemone, uno dei costruttori e 50 mila Euro in contanti, questa l'accusa, sempre da parte di Anemone. Il primo a difendere Bertolaso è il ministro Matteoli che va a porta a porta e sfodera per lui un alibi d'acciaio proprio. Dice Bertolaso che prende tangenti, non me lo immagino, ha troppe cose da fare. Cioè è un problema di tempo, insomma se avesse due minuti per carità, ma non ha mai tempo di andarle a prendere. Gli avvocati di Bertolaso hanno poi pregato Matteoli di non difenderlo più che qualcosa di meglio se lo inventavano persino loro e a quel punto si è difeso in prima persona Bertolaso. Sui favori ai parenti ha detto è vero mia moglie curava i giardini del salario a Sport Village di Anemone, ma solo perché è brava. Sui massaggi sexy ha detto che lui prenotava quella famosa Francesca per la solita ripassata, questa era la frase che diceva al telefono, ma che si era equivocato perché lui non c'era niente di pruriginoso. Quelli erano dei semplici massaggi per la cervicale di cui lui soffriva. Purtroppo però nelle intercettazioni salta fuori anche un'altra massaggiatrice, non più Francesca Mamonica, brasiliana, che operava in perizoma e al termine del suo massaggio Anemone mandava un incaricato a rastrellare via eventuali preservativi, i famosi preservativi curativi per la cervicale. Sui 50 mila euro in contante da Anemone risponde sul Corriere della Sera Bertolaso, non è vero che li ho presi, che voglio dire sarebbe anche un buon alibi, no, lui disse ma le pare che uno del mio livello si fa comprare per 50 mila euro, ecco un fatto di tariffa, è un po' la linea pomicino, guai a passare per Barboni, eventualmente rincarare sulla tariffa. Scaiola lo conosciamo, ormai sappiamo tutto, Anemone gli ha pagato i due terzi della casa a sua insaputa e lui si è dimesso spiegando un ministro non può sospettare di abitare un'abitazione pagata in parte da altri, è giusto se uno ti paga la casa e non ti dice niente la prima cosa da fare è andarlo a prendere, scovarlo, individuarlo, identificarlo e fargli un mazzo così naturalmente, però Scaiola giurò la casa la vendo, così restituisco i soldi anche se non sapeva a chi restituirli perché non sapeva chi gliel'aveva pagata, è un caso drammatico. Qualche mese fa Bertazzoni l'ha beccato con la telecamera che usciva dalla solita casa, gli ha detto scusi ma non l'aveva venduta e lui ha detto è un problema, non si trovano compratori, è una casa maledetta e ha aggiunto comunque ci vado solo per dormire, cioè lui passa 8 ore su 24 perché ne ha pagata solo un terzo, ha appena finito di dormire e se la svinia perché le altre 16 sono di un altro che non sa chi è. L'altro giorno ci è ricascato perché è indagato di nuovo per alcuni posti barca al posto di Imperia scontati o pagati la metà al costruttore Bella Vista Caltagirone e lui è caduto di nuovo dalle nuvole, però dal pero, ha detto ma io non ne sapevo niente, hanno fatto tutto mia moglie e mia sorella, cioè non l'hanno informato di nulla. I giornalisti gli hanno detto scusi ma lei almeno la barca ce l'ha visto che avete i posti barca? Io ho detto no, non ho barche, a meno che non gli abbiano comprato delle barche a sua insaputa che sarebbe anche il caso che glielo dicessero. Tommaso di Lerni era un altro costruttore di un'altra cricca, quella della Finmeccanica, lui faceva il bancomat per chi lavorava a Finmeccanica e ha detto ho portato 200 mila Euro nella sede dell'Udc al tesoriere perché Casini e Cesa non c'erano. Il portavoce di Casini ha tirato fuori un altro alibis poderoso, ha detto sono accuse ridicole, Casini non ha uffici al partito, ma cosa vuol dire? Al massimo vuol dire che ha sbagliato indirizzo delle consegne, ma non dimostra il fatto che la consegna non c'è stata. D'Alema è stato indagato a Roma per finanziamento illecito, poi hanno già chiesto l'archiviazione perché una compagnia aerea gli ha offerto 6 passaggi gratis in volo ed era la stessa impresa che finanziava la sua fondazione italiana e europea e ha pagato tangenti anche un dirigente del PD. Come si è difeso D'Alema? Come Scaiola ha detto credevo fosse tutto pagato. L'ha fatto dei voli gratis a sbafo, ma pensava che qualcun altro passasse a pagare. Alla regione Lombardia, l'abbiamo visto, ci sono 10 consiglieri su 80 indagati penati del PD, 6 del PDL e 3 della Lega. L'Italia dei Valori al momento è senza indagati, infatti Formigoni ha subito insultato il capogruppo, Zamponi, ha detto pirla, giusto, che aspetta a rubare anche lui come tutti gli altri. Anche la parola pirla ha cambiato significato, ai tempi di Patelli e di Bossi il pirla era quello che prendeva i soldi e si faceva beccare, adesso il pirla è quello che non ruba, questo è importante saperlo. Bossi ha difeso Boni con molta convinzione, ha detto tangenti? Moa non penso, che è molto convincente oltre che molto convinto come difesa. Formigoni l'altro giorno sul Corriere della Sera ha proposto una soluzione alla corruzione, non le dimissioni degli indagati, no, ha detto bisogna aprire un dibattito pubblico. Ecco, se gli rubano in casa, lui invece di chiamare il 113 apre un dibattito pubblico, vive circondato da gente che sfreccia avanti e indietro con i soldi che escono dalle orecchie, dalle mutande, dai pantaloni e non si accorge mai di nulla, tra la figura del palo e quella del fesso preferisce la seconda, alla peggio ci scappa la semi-infermità mentale o la incapacità di intendere e volere, un po' come Rutelli che era contitolare del conto di Lusi da cui sono spariti 13 milioni su 20 e lui giustamente ha detto, faccio il politico, mica il ragioniere, bisogna studiare almeno la partita doppia per accorgersi che spariscono 13 milioni su 20. Berlusconi è sempre più avanti di tutti e infatti ultimamente ha inventato l'alibi perfetto che è l'autocertificazione, sono innocente perché lo dico io, è successo poco prima della sentenza di prescrizione sul caso Mills, il suo portavoce Paolo Bonaiuti ha emesso un comunicato che non ammetteva repliche, diceva così, le annotazioni del Presidente Berlusconi imporrebbero di per sé sole la piena e totale assoluzione, cioè è inutile fare i processi, si fa prima a chiedere all'imputato che poi è quello che si conosce meglio fra l'altro, cioè funziona così, il giudice domanda all'imputato, lei ha per caso scritto delle annotazioni? E l'altro arrossendo un pochino dice veramente sì, qualche righetta ce le può gentilmente agevolare? Chiede il giudice. Se l'imputato risponde mi giudico colpevole allora si fa il processo, se invece dice guardi vostro onore dopo lunghi auto interrogatori e tormentate riflessioni sono giunto a una conclusione univoca e indiscutibile, mi sono giudicato innocente, allora assolto, anzi ci scusi tanto per il disturbo, è la nuova versione del processo breve, il processo brevissimo.